Trasportavano la droga da Torre Annunziata Marotta per sfacciarla a clienti della provincia di Pesero Urbino. La Guardia di Finanza e i Carabinieri hanno dato esecuzione a un'ordinanza applicativa di misure cautelari nei confronti di 11 persone, di cui 9 sottoposte alla custodia cautelare in carcere e 2 al divieto di dimora nella nostra provincia. Questi soggetti, quasi tutti originari della provincia di Napoli, sono gravemente indiziati di plurime condotte di detenzione, cessione e vendita di grandi quantità di cocaina, oltre che dei reati di riciclaggio e trasferimento fraudolento di valori. Le indagini hanno documentato l'elevata operatività sul territorio di Marotta, con lo supefacente trasportato da Torre Annunziata e tenuto in deposito all'interno di abitazioni o altri luoghi nelle loro disponibilità. Lo supefacente, dopo essere stato tagliato e frazionato in dosi, veniva ceduto al dettaglio a numerosi acquirenti provenienti da vari comuni della provincia, tra cui Pesaro, Fano, Mondolfo, San Costanzo, Acqualagne e Fossombrone, oppure ceduto ad altre persone per la vendita al dettaglio. Il giro d'affari lascia presumere che gestissero l'attività di spaccio con carattere di vera e propria imprenditorialità e in forma quasi monopolistica sul territorio. Nel solo periodo di indagine sono stati movimentati 5 kg di cocaina, con frequenza di approvvigionamento di ben 500 grammi ogni 15 giorni. Grazie ai numerosi servizi di osservazione e pedinamento, ma anche alle intercettazioni telefoniche e ambientali, gli investigatori sono riusciti a documentare come il gruppo di trafficanti e spacciatori fosse gestito da un pregiudicato napoletano, domiciliato nella nostra provincia, che seppur detenuto in carcere per reati di droga, riusciva a veicolare all'esterno le proprie direttive. Si serviva infatti della propria compagna e di altri suoi familiari, i quali, avvalendosi a loro volta di altri personaggi, avevano realizzato una vera azienda a conduzione familiare, di cui il nome attribuito all'operazione Affari di Famiglia. Alcuni di loro utilizzavano i propri figli in tenera età per eludere eventuali controlli delle forze dell'ordine e alcune partite di cocaina prelevate dalla provincia di Napoli erano state occultate all'interno degli effetti personali dei bambini che viaggiavano in auto con i loro genitori. Inoltre è stato documentato che i minori assistevano in casa alle operazioni di taglio e frazionamento dello superfacente, al punto che i presenti avevano addirittura temuto che uno dei figli avesse potuto ingerire una dose presente sul tavolo della cucina. All'esito delle indagini sono state complessivamente deferite all'autorità giudiziaria 17 persone coinvolte a vario titolo nella vicenda, 11 delle quali colpite dal provvedimento restrittivo. Infine è stata data esecuzione a un decreto di sequestro preventivo di 81.000 euro e di un'auto e di una moto che utilizzavano per l'attività illecita. Tutti gli indagati, ad eccezione di quelli sottoposti al divieto obbligo di dimora, ora sono ristretti nelle case circondariali di Napoli, Poggio Reale e di Pesaro in attesa dell'interrogatorio di garanzia.